Queste sono iniziative importantissime e non sono solo iniziative perché realizzano davvero programmi e progetti e sentivo prima le parole del Presidente da Novaro, programmi e progetti innanzitutto per la città. Questo è un punto molto importante perché lì dove le istituzioni lavorano insieme in un programma di riarticolazione molto complesso che prevede differenti amministrazioni impegnate nei loro differenti articolazioni, questo è il modo attraverso il quale procedere all'interno della città se si vogliono portare avanti programmi complessi come appunto questo. Infatti non solo il Comune ringrazia innanzitutto l'istituto Anton Dorn, ma noi ringraziamo anche la soprintendenza che è oggi qui, ringraziamo naturalmente Inarcassa per l'impegno che sta oramai portando avanti in questa come in altre occasioni prestigiose, così come tutti coloro che hanno lavorato davvero con grande passione e grande attenzione. Un programma di riarticolazione diciamo più complesso che riguarda questa sede ma riguarda anche la casina del boschetto che rappresenta uno dei gioielli napoletani dell'architettura napoletana dove hanno lavorato possiamo dire anche insieme con una lieve forzatura due architetti, due maestri anche dell'architettura razionalista come Canino e Cosenza, poi un progetto portato avanti nei fatti da Cosenza e quindi tiene insieme delle storie molto importanti anche per l'architettura moderna e contemporanea di questa città, ma un programma di riarticolazione perché da quando appunto il prestigio dell'istituto Anton Dorn ci siamo messi in contatto, da lì in poi, ecco perché è fondamentale questo lavoro istituzionale, da lì in poi noi ci eravamo accorti di averlo all'interno, di avere una struttura del genere, cioè che il comune di Napoli aveva posto una struttura del genere all'interno di un piano di riequilibrio e dunque per la vendita, lo abbiamo assolutamente estrapolato da un piano di vendita, con la collaborazione del Consiglio Comunale lo abbiamo rimesso chiaramente all'interno di un percorso completamente differente, riconoscendo che i monumenti non possono essere venduti quando appunto hanno una storia del genere alla propria base e nelle proprie radici e devo dire che questa collaborazione oggi ci porta a lavorare qui, a lavorare alla Casina del Boschetto per un programma, appunto un museo della biologia marina, ma con un punto di attenzione molto forte sulla città, vale a dire la possibilità attraverso un convenzionamento con il comune di Napoli di un'apertura anche della parte d'ingresso, poi questo sarà definito nei prossimi passaggi, per far sì che lì si possano svolgere dei programmi rilevanti per la città, presentazioni scientifiche, presentazioni culturali, momenti di incontro, momenti di discussione e di elaborazione di un pensiero critico sulla città, ma tutto questo noi lo facciamo insieme in un grande apporto istituzionale, altrimenti non riusciremo ad andare da nessuna parte, quindi grazie a tutte le amministrazioni che si sono impegnate è un momento davvero importante per questa città, solo così noi concepiamo i progetti. Grazie. 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 Grazie.